Musica Dottore Cortese siamo qui a Gizzeria per la decima edizione del premio Capo Suvero Beh si è una bella serata, è un grande onore essere qui a Gizzeria Speriamo che sia una serata di interesse per tutti, parlare di legalità e parlare dei valori importanti è una cosa assolutamente di grande auspicio per la serata e sono veramente contento di stare su questo territorio Grazie